Siamo con Nicola Podestà, assessore all'ambiente. Gli impegliesi chiedono più pulizia della città. Quali le risposte? La pulizia della città diciamo che è cominciata. Non nascondo che ci possano essere ancora qualche criticità qua e là, però nel complesso direi che il livello di pulizia è decisamente aumentato. Noi ci stiamo impegnando in tutti i modi con il rappresentante della Tadeco. Io stesso vado uno o due pomeriggi alla settimana a fare ispezioni sulle strade con il rappresentante dei servizi della Tadeco, i responsabili dei servizi tecnici e quindi individuiamo i punti che ci segnalano i cittadini o che individuiamo noi stessi e cerchiamo di risolvere. Anzi, li risolviamo. Io ho visto una grandissima disponibilità da parte di questo gestore. Ogni volta che si segnala una problematica viene risolta nel giro di poco tempo. Quali sono le novità nella raccolta differenziata? Novità è che è una raccolta differenziata per imperia. Novità prima di tutto sugli obiettivi che si prefigge. Perché noi sappiamo che attualmente abbiamo una raccolta differenziata che è a livello intorno al 25%, mediamente, che è bassissima. E noi ci prefigiamo di arrivare oltre al 65% di raccolta differenziata. Quindi c'è questo obiettivo. E poi, novità nel modo di raccogliere i rifiuti, sia nella tipologia delle isole ecologiche, come verranno sistemate, verranno riposizionate. Probabilmente qualche cassonetto sparirà anche. Questo potrà comportare qualche piccolo disagio per qualcuno che dovrà fare qualche decina di metri in più per andare a portare il rifiuto. Ma, insomma, questo è compensato ampiamente dal vantaggio che poi se ne ricava a livello generale. E poi c'è la novità che ci sarà la scheda magnetica. Cioè, le novità le vedrete in seguito. Le novità poi si riperpoteranno sulla TARES, sul discorso dei rifiuti. Vedrete che ci saranno anche dei risparmi per i cittadini. Oggi la presentazione del nuovo servizio di igiene ambientale. Qual è l'organizzazione a livello compensoriale? Siamo partiti a unire 35 comuni. Stiamo parlando di 77.726 abitanti, poi altre utenze non residenti, utenze economiche, per un totale di circa 120.000 persone equivalenti, che producono circa 47.000 tonnellate di rifiuti. L'abbiamo organizzato su tutti i 35 comuni, sia come parte di rifiuti di raccolta differenziata, sia come pulizia. La prima parte, con l'obiettivo di superare il 67% di raccolta differenziata. La seconda parte, la pulizia, per alzare maggiormente la qualità del territorio. Pasquale Lomorno, responsabile TARECO. Come si è organizzata la TARECO per svolgere il servizio? Oggi abbiamo praticamente una realtà su Imperia, che sono due distinti strutture di piazzare per le macchine, sia come uffici e come deposito, che si trovano sull'argine destro. Poi abbiamo attivato il centro di San Lorenzo, dove sono dislocati alcuni mezzi, e c'è il centro di raccolta per gli ingombranti materiali ferrosi, per cartone, plastica e sfalci di potatura. Stessa cosa abbiamo fatto su San Bartolomeo, in maniera da poter coprire l'opponente elevante di Imperia. I problemi dei lavoratori sono stati risolti? Senta, noi abbiamo praticamente esigrato un accordo sindacale per quanto riguarda il cosiddetto FISE, per FISE è un acronimo, la Federazione Italiana dei Servizi di Ecologia. Per dirla in maniera molto semplice, noi siamo obbligati per legge a prendere tutto il personale che rientra ed è praticamente o soffruisce di un contratto collettivo nazionale di lavoro e i sensi del cosiddetto accordo FISE. E quelli abbiamo preso nel numero di 150 persone. Quelli che sono rimasti fuori sono quelli della Copredi Vottagone, dove stiamo trovando una soluzione con i sindaci del territorio e con lo stesso DEC, con la stessa stazione appaltante, per cercare di riutilizzare meglio queste persone, che non abbiamo potuto prendere perché loro non rientravano in un contratto FISE, rientravano nel contratto di cooperative sociali che godevano di altre agevolazioni o di altre provvidenze da parte del sistema che riguarda i cosiddetti sociali.